come cosa si intenda per open data? Penso che lo sappiate, la cosa importante è quello che appunto questi dati siano aperti a chiunque, siano riutilizzabili, siano ridistribuibili e siano soggetti fondamentalmente a due tipologie di licenza, cioè a quella di attribuzione e a quella di condivisione allo stesso modo. Come si possono declinare queste regole generali invece in campo archeologico? Allora, qualche dato per capirci, qualche grafico per capirci meglio. Noi all'inizio dell'anno abbiamo veramente rotto le scatole a chiunque perché abbiamo fatto un sondaggio col progetto per sapere cosa ne pensassero gli archeologi degli open data. Abbiamo tenuto per mesi attivo questo sondaggio e veramente facendo un'opera di spam su tutti i mezzi che avevamo, dalle newslettere ai social network, alla fine abbiamo avuto 650 risposte che ci sembrano comunque un ottimo campione, anche considerando che andavamo a chiedere delle cose piuttosto particolari, quindi un settore piuttosto particolare degli open data e che il questionario era composto da 60 domande, quindi la gente aveva anche diritto eventualmente a dire ammazza quanto ci fate lavorare. Tutti i dati che io ora qui vi presento in maniera estremamente sintetica sono, per mantenere fede alla trasparenza di cui prima, sono scaricabili all'indirizzo che vedete in basso come CSV. Quindi ci sono tutte le domande con tutte le risposte, quindi chiunque voglia smentire la nostra riaggregazione dei dati lo può fare o chiunque voglia riutilizzare per altre ricerche, per altri tipi di analisi questi dati lo può fare liberamente. Innanzitutto scopriamo che un numero elevatissimo di persone che lavorano in campo archeologico è d'accordo sulla creazione di un archivio open data, quindi circa il 93%, quindi a parole diciamo ci sono tutti piuttosto entusiasti. Poi disaggregando il dato, quelli più entusiasti, fagli entusiasti sono chi si occupa di ricerca, i professionisti e gli addetti alla tutela un po' meno. Comunque con percentuali sempre molto alte, quindi insomma i tre quarti fondamentalmente, almeno i tre quarti sono tutti d'accordo, questo è importante. Open data sono visti anche come futuro per la ricerca, perché sono visti appunto come uno strumento che permettono nuove possibilità di ricerca, di analisi, di interpretazioni, eccetera. Ma qui le percentuali scendono, però siamo sempre su delle percentuali significative, circa i due terzi pensano che siano utili anche come strumento di pianificazione e di tutela, perché più ci sono questi dati, più sono condivisi, più sono accessibili, più possono essere utilizzati anche, come si diceva prima, per tutelare il nostro patrimonio. E da ultimo, una percentuale abbastanza altra, pensa che avere dei dati aperti sia uno stimolo per migliorare la produzione, la qualità dei dati stessi. Questa è una cosa non secondaria, secondo me, perché chiaramente in mancanza purtroppo di standard in molte fasce della documentazione, della produzione del dato archeologico, la presenza, cioè il confronto con dati aperti, trasparenti, può permettere un miglioramento del dato stesso. Cioè proprio copiando banalmente quello che consideriamo meglio, o facendoci venire idee da come vediamo il lavoro degli altri, possiamo via via migliorare la produzione dei dati, che in questo momento è molto molto eterogenea. Questa che vedete era una delle immagini, qualche volta la vedete anche nelle prossime slide, che abbiamo utilizzato per pubblicizzare il sondaggio. Un altro dato importante è il fatto che l'80% considera fondamentale avere tutti i dati che sono prodotti, non soltanto una parte. In campo archeologico c'è un certo dibattito su questa cosa qua. Alcuni dicono, beh, però basterebbe avere un minimo di dati, che cos'è, che cronologia ha. Questo per alcune rielaborazioni può andare bene e per altri no, nel senso che questo dipende molto dall'utenza che utilizza i dati. Chiaramente, se non sono uno specialista del settore, il dato già interpretato mi può bastare, perché mi permette di capire al volo quello che è stato ritrovato. Una villa romana di un determinato periodo, un sito medievale di una certa cronologia. Se sono invece uno specialista, ho interesse a verificare se quello che poi mi viene detto in maniera sintetica è vero. O senza, diciamo, per forza dover pensare che chi ha dato quell'interpretazione non è una persona capace, ma semplicemente pensando al fatto che la scienza e così l'archeologia progredisce col tempo. Quindi un'interpretazione di 10 anni fa, 20 anni fa, 30 anni fa, che era l'interpretazione migliore con gli strumenti, con i dati, con le conoscenze dell'epoca, non è detto che sia sempre l'interpretazione migliore con i dati, e le conoscenze che abbiamo adesso. Quindi questo serve anche per poter rivedere i dati e non cristallizzarli in un determinato periodo. Chiaramente l'archeologia fa dei progressi e quindi è giusto poter rianalizzare i dati anche per non utilizzare interpretazioni superate ormai. Per esempio, come potrebbe migliorare la cronotipologia della sigillata se si mettessero in rete tutti i dati, gli scavi dell'area mediterranea? Certo. E questo potrebbe migliorare un sacco di cronologie, datazioni, di vari contesti? Sì, il campo dei reperti, soprattutto dei reperti ceramici, è quello che a mio avviso permette in maniera più intuitiva di capire le potenzialità, lo vedremo poi anche dopo, di capire le potenzialità di avere molti dati disponibili in rete, perché avere la possibilità di fare immediatamente confronti fra i ritrovamenti e le stratificazioni, quindi le cronologie, i contesti, eccetera, ci permetterebbe di, in molti casi, magari di migliorare il range cronologico di determinati reperti ceramici, manifatture, eccetera. E' da questo che mi riferivo quando dicevo prima che appunto migliora la nostra conoscenza, perché cronologie che venivano assegnate a determinati reperti 30 anni fa non sono le stesse di adesso, perché nel tempo abbiamo trovato nuovi dati e nuove informazioni per restringere o ampliare o modificare quelle stesse cronologie, quindi il set di dati minimi è valido, ma solo nel momento in cui viene dato, poi dopo deve essere in qualche modo aggiornato, e per questo servono i dati primari, i dati grezzi. E veniamo alle licenze, purtroppo nel campo delle licenze c'è molta, è un campo un po' ostico, forse in generale in molti settori legati all'open data, nel settore umanistico lo è perché magari non si hanno le conoscenze anche, tra virgolette, legali o di diritto legati alle licenze. Questo è un problema che si verifica anche nel campo dell'open access, ad esempio, quando molti ricercatori scrivono un articolo e lo mandano per essere pubblicato ad una rivista, praticamente cedono, senza saperlo, tutti i diritti su quell'opera. E' per quello che poi non riescono più a fare open access, perché cedono i diritti all'editore, perché non ci si è mai chiesti di questi problemi, uno era già contento di poterlo pubblicare, e fino a poco tempo fa la pubblicità al proprio lavoro veniva data dalla diffusione della rivista e quindi dall'editore. Ora non è più così e quindi è importante conoscere le licenze. In questo caso manca una vera conoscenza, tanto che il 36% non ha proprio risposto alla domanda. Evidentemente non si era posto il problema, non sa di quel che si parla, e quindi su questo c'è da fare molta informazione nei confronti del mondo dell'archeologia, ma dei beni culturali in generale. e addirittura un 17%, quindi insomma una percentuale non bassissima, dice che vuole l'attribuzione e il non commercial, e che devi condividere allo stesso modo in maniera non commerciale. Cioè c'è la diffidenza che purtroppo il mondo dei beni culturali ha nei confronti del business. In alcuni casi può essere anche una diffidenza basata su degli esempi negativi, e quindi non è che bisogna dire, però in molti casi è una diffidenza to cure, che non viene abbastanza sviscerata. E quindi purtroppo si usa questo sistema non commercial, che è legato anche purtroppo a alcuni dispositivi di legge, come quello della legge Ronchei sulle riproduzioni, sulla riproducibilità dei beni culturali, la cui riproducibilità è soggetta comunque a delle royalties, e quindi è un utilizzo che per essere commerciale deve essere soggetto a un pagamento e comunque rilasciato dallo Stato. Quindi è un problema questo qui delle licenze e di come vengono intese sul quale bisognerà lavorare molto. Una percentuale più o meno equivalente invece è abbastanza aperta da dire mi basta l'attribuzione. Non pretendo nulla di più che si dica che quel dato comunque è farina del mio sacco, è un lavoro, proviene dal mio lavoro. Come si diceva prima, percentuali molto alti dicono sì, facciamo un archivio open data, ma ci sono comunque dei timori davanti a questa apertura dei dati. Dei timori che comunque raggiungono un numero alto di possibili utenti dei dati aperti archeologici che sono legati fondamentalmente a tre motivazioni. Uno è il problema per la tutela, cioè si ha la paura che aprire i dati favorisca in qualche modo la distruzione del nostro patrimonio archeologico. Un ragionamento che spesso si sente dire è quello che già così i tombaroli distruggono di tutto, se in più gli diciamo dove andare a scavare è ancora più facile. Sì, anch'io sono convinto che i tombaroli spesso lo sappiano meglio di chi fa ricerca purtroppo. E inoltre la mancata conoscenza secondo me non è uno strumento di tutela perché comunque una storia più che centenaria di segretezza non ci ha salvato dai tombaroli. Invece, questa è un'opinione mia molto personale, immagino non condivisibile, però invece il fatto che tutto sia trasparente, quindi se io so che nell'orto dietro casa mia c'è la villa romana e poi vedo nottetempo qualche d'uno che ci si intrufola, magari avverto le autorità. Se invece non lo so, dico magari sono andati a rubare dupere, invece ci può essere. Quindi la conoscenza è comunque uno strumento secondo me di tutela, però è chiaro che su questo c'è molta diffidenza e non si può neanche essere così o bianchi o neri. è un problema delicato quella della distruzione del patrimonio, dei tombaroli, eccetera, eccetera. Quindi va affrontato. Dal mio modo di vedere comunque i dati aperti non aumentano la distruzione, anche perché comunque i dati vengono pubblicati sui giornali, sulle riviste di scavo, su pubblicazioni, e quindi anche quelli sarebbero facili preda del tombarolo. Basta che sfogli due riviste e guardi dove ci sono stati fatti degli scavi. Scorrettezze da parte dei colleghi. Purtroppo c'è una diffidenza da parte di colleghi che quello che uno ha prodotto venga, diciamo, tra virgolette rubato e pubblicato a nome proprio. Casi deprecabili sono successi nel corso dei tempi, ma secondo me, di nuovo, la trasparenza aiuta a proteggere i propri dati, perché questo può avvenire se nessuno sa che io ho fatto uno scavo. Ma nel momento in cui questo è sparso ai 420, pubblicato come open data, e viene pubblicato a proprio nome da qualche di un altro, mi viene anche facile dimostrare che quei dati mi sono stati rubati o comunque sono stati pubblicati a nome di qualcun altro. L'inaffidabilità dei dati è un altro problema che viene spesso citato, cioè il fatto che non c'è una vidimazione di questi dati da parte di un'autorità superiore che dice quello che è stato ritrovato o quello che è scritto questi dati sono la vera verità. Questo è un problema fondamentalmente, secondo me, insuperabile, nel senso che comunque quei dati tali sono e non possono essere modificati perché sono stati raccolti in quella maniera lì e quindi più di quello è l'unica cosa che rimane, al di là di alcune strutture o dei reperti che vengono conservati, ma la documentazione di scavo così è stata fatta e nulla ci si può fare a quel punto e quindi l'inaffidabilità dei dati deve essere superata eventualmente all'origine, cioè creando delle persone che sappiano raccogliere i dati in maniera affidabile e poi chi decide l'inaffidabilità dei dati e chi meglio di una vasta comunità può deciderlo. Nel momento che questi dati vengono citati, riutilizzati da un vasto numero di persone vuol dire che sono considerati affidabili. Ormai gli archeologi, insomma le persone che escono dall'università sono un numero importante e quindi si spera che sappiano verificare se questi dati sono corretti, affidabili o meno o più o meno affidabili a seconda dei casi, eccetera, eccetera. Quindi credo che come ci ha insegnato la rete l'affidabilità possa essere giudicata dai fruitori dei dati stessi. Comunque questi sono i timori di chi invece apprezzerebbe molto avere molti dati aperti. Quindi come fare? Come fare nel momento che ci siamo buttati nel fare dati aperti quali sono i capisaldi di fare open data in archeologia? Innanzitutto che siano chiaramente aperti cioè accessibili a tutti senza filtri, password, cose strane. Tempestivi, come si diceva all'inizio i dati invecchiano quindi vanno immessi il prima possibile in circolazione e che siano liberamente riutilizzabili. Fatto salvo però un principio che l'archeologia siccome produce sempre dati che sono unici e irripetibili perché noi non possiamo utilizzare il metodo sperimentale su qualcosa che comunque abbiamo distrutto perché l'archeologia di scavo soprattutto è un'archeologia distruttiva l'unica cosa che ci rimane è la documentazione l'attività di scavo è un'attività l'attività archeologica è un'attività di ricerca tale va considerata anche se viene svolta non da un ente di ricerca come l'università ma anche dal libero professionista che in questo momento sta seguendo la trincea per i sottoservizi dietro casa. Quindi essendo un'attività di ricerca a nostro parere i dati devono essere considerati alla stregua di una pubblicazione e ad essa va e per essi va tutelata la paternità intellettuale ora qui ho scritto paternità intellettuale nel primo convegno che abbiamo fatto avevamo parlato di maternità intellettuale ci piaceva molto di più questa espressione e ci piace molto di più poi si usa paternità per farsi capire però maternità è il termine giusto dal nostro punto di vista perché la madre è sempre certa come ci insegnano i luoghi comuni e poi perché il 70% di chi fa archeologia è donna e quindi ci sembrava anche diciamo un giusto tributo da questo punto di vista come tutelare questa maternità intellettuale in due modi uno attribuendo ai dati e alla lettura grigia poi vedremo un DOI e quindi l'equivalente tra virgolette insomma per capirci di un SBN digitale insomma quindi dire chiaramente dove è chi ha prodotto quei dati e poi utilizzare dare la possibilità di scegliere tra due licenze che sono quelle che abbiamo visto prima suggeriva anche l'Open Knowledge Foundation cioè una creative common by cioè la semplice attribuzione questo scavo questo dataset questa letteratura grigia è opera di Tizio o una attribuzione più share like cioè condividi allo stesso modo noi suggeriamo accettiamo chiaramente una share like ma spingiamo di più sulla sulla semplice attribuzione perché permette un riuso commerciale più tranquillo rispetto alla share like che mi impone sempre di qualche modo di rimettere i dati sempre nella maniera aperta può essere giusto però da un punto di vista commerciale non è detto che poi possa essere sempre utilizzato e quindi magari uno noi diamo la possibilità con una semplice attribuzione di dire se li vuoi se quello che produci te lo vuoi diffondere come dato chiuso te lo permettiamo perché in alcuni casi del business questo purtroppo ci piace o non ci piace è un dato di fatto nel momento in cui ad esempio io faccio una valutazione preventiva per una ditta in qualche modo sono costretto a un vincolo di riservatezza e quindi non posso i dati che io ho prodotto come opera derivata da quei dati non li posso ridistribuire in maniera aperta e quindi devo avere la possibilità di distribuirli in una maniera purtroppo chiusa e eventualmente aprirli in un secondo momento quando magari quest'obbligo di riservatezza viene meno c'era qualcuno che vuole fare una domanda è acceso vero? sì no mi interessava capire bene questa attribuzione del codice ricollegandomi a quello che avevamo già fatto nei precedenti incontri sui link ed open data quindi questo in questo caso è l'attribuzione di un URI no? sì si 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 è uguale una delucidazione di questo tipo abbiamo visto cosa intendiamo per open e invece cosa intendiamo per i dati qui si va più nello specifico intendiamo tutto quello che viene prodotto in uno scavo o in una qualsiasi indagine archeologica quindi tutte le immagini tutte le i disegni le piante i rilievi tutte le schede che vengono fatte insomma tutto quello che viene prodotto in generale anche una nuvola di punti se uno facesse una scansione con un laser scanner per capirci e questo diciamo l'abbiamo chiamato ovviamente dataset e il resto nella letteratura grigia cioè le relazioni la letteratura grigia chiaramente sono dati per modo di dire nel senso che è un open access perché non faccio altro che riprodurre o pubblicare in questa maniera qui la relazione di scavo che viene fatta cioè una relazione preliminare che poi magari viene pubblicata sotto forma di articolo magari no è importante perché spesso è l'unica cosa che viene poi cioè non arrivando a pubblicazione su una rivista questi dati l'unica cosa che viene di scritto insomma che ci permette anche di capire i dati come sono stati i prodotti eccetera eccetera è la letteratura è la letteratura grigia e quindi in qualche modo è importante che sia pubblicata anche se è in tutto e per tutto un open access perché non sono dati è uno scritto un testo un formato di testo ora vediamo quelli che sono invece gli aspetti legali di questo di fare di fare open data perché abbiamo visto che fondamentalmente gli archeologi sono anche d'accordo nel fare open data ma ci sono comunque delle difficoltà da un punto di vista da un punto di vista legale o almeno non tanto ci sono delle difficoltà ma c'è bisogno di una conoscenza di quelli che possono essere alcuni tipi di problemi per poterli superare perché non è così immediato ho fatto questo lo metto in rete su un archivio devo conoscere quali sono diciamo le regole e anche la legislazione che ci sta dietro per capire cosa mi è permesso fare cosa no e in che modo farlo allora dietro al fatto di poter pubblicare come dati c'è una serie di di aspetti legati al diritto d'autore in pratica chi qui entriamo in un campo se volete un pochino più tecnico in alcuni casi anche un pochino più scivoloso questo studio è stato fatto da Marco Ciurcina che è un che è un avvocato che si occupa di software libero e di di open data e ha collaborato con noi proprio per definire diciamo gli aspetti legali detto l'apertura dei dati la prima domanda che ci siamo fatti è di chi erano per potergli aprire i dati bisogna sapere di chi siano i dati della pubblica amministrazione è facile sono dati della pubblica amministrazione quindi non sono non sono soggetti a un diritto d'autore quindi i dati che sono stati prodotti in campo archeologico da una pubblica amministrazione come la soprintendenza sono non sono soggetti a un diritto d'autore perché sono stati prodotti dalla soprintendenza cioè da un funzionario nello svolgimento delle proprie funzioni ma tutto in campo archeologico tutta una serie di dati vengono invece prodotti da un singolo che è l'archeologo che magari appunto come si diceva prima sta seguendo la trincea dei sottoservizi in questo caso qua invece c'è un diritto d'autore un diritto d'autore ad esempio sulle banche dati nel momento che lui ha semplicemente fatto un database di questi si è organizzato i suoi dati sul database il diritto sulle fotografie che poi vedremo perché è soggetto alla sua diffusione comunque al codice e un diritto d'autore su tutto quello che invece è un'opera di ingegno in particolare sulla relazione che è l'interpretazione di quello che ha scavato più scivoloso è invece l'aspetto sulla schedatura cioè sui rilievi sui disegni tutte queste cose qua perché in effetti essendo anche semplicemente una semplice descrizione della realtà dovrebbero non essere soggetti a un diritto d'autore però in via cautelativa e anche appunto per andare incontro a tutte quelle problematiche tipo mi deve essere riconosciuto il lavoro mi deve essere attribuito attribuita la maternità di quello che ho fatto in via cautelativa abbiamo considerato anche questi tipi di schedatura come soggetti a un diritto d'autore questo cosa cosa implica implica che l'autore deve essere lui a dare il consenso per pubblicare i dati quindi perché le schede sono sono firmate le piante spesso sono firmate eccetera eccetera quindi se magari una pianta di unità stratigrafica è una cosa una pianta composita che invece è un prodotto in qualche modo dell'ingegno perché io dico quella è una determinata fase archeologica e invece quindi c'è molte sfumature e in maniera cautelativa abbiamo deciso di seguire questa questa strada questo implica è uno sforzo maggiore la tutela giustamente di chi ha prodotto il dato e uno sforzo maggiore che è quello di convincere il produttore di dati che non è sempre soltanto e comunque pubblica amministrazione ad aprire quel dato è per quello che è una via di mezzo tra i dati della pubblica amministrazione e i dati della ricerca è una bella rogna è un settore complicato e comunque un'altra cosa che è importante abbiamo cercato non è detto che il parere che è pubblicato comunque sugli aspetti legali pubblicato nella parte delle pubblicazioni del nostro del nostro sito è è comunque il primo parere che cerca di mettere un po' ordine in questa in questa legislazione e ci potranno anche essere chiaramente pareri differenti in parte del tutto però è importante intanto aver messo in qualche modo un punto fermo un punto di partenza partiamo di qua e continuiamo a discutere e miglioriamo le cose quindi queste sono le domande quindi quando è l'opera creativa si diceva prima cosa possiamo definire creativo e no alcune cose appunto sono un po' al limite chi è l'autore chi è titolare dei diritti la soluzione è quindi quello di avere una liberatoria da parte dell'autore che dice si i dati sono i miei gli ho pubblicato consento alla pubblicazione come dati aperti un altro problema è quello che si diceva legato alle alle immagini perché c'è tutta la legislazione legata al diritto di riproduzione cioè come si diceva prima la riproduzione come probabilmente vi avrà anche detto Luca Corsato penso abbia avuto lui se ne occupa parecchio di queste cose qua la legge prevede che ci sia possono essere riprodotte i beni culturali dietro un equo compenso oppure dietro una liberatoria che ti permette un'autorizzazione che ti permette di utilizzarli questo viene fatto diciamo normalmente nel caso di pubblicazioni a stampa che spesso e volentieri soprattutto quelle scientifiche che stanno sotto un certo numero di copie non hanno uno scopo commerciale ma semplicemente scientifico e non si pagano in genere royalties su quelle immagini perché magari si stampano 500 o 1000 copie solo per appunto scopi scientifici e non per uno scopo commerciale e lo Stato ti dà l'autorizzazione a utilizzare le immagini senza nessun compenso dietro però questo esiste soprattutto nel caso in cui uno dica io a questo caso qui però lo diffondo e ci metto una licenza che se quell'immagine lì domani la vediamo come pubblicità di google non posso dirgli nulla ha usato l'immagine del mio scavo per fare la sua pubblicità per metterlo nello sfondo di una sua pagina eccetera eccetera non possiamo dirgli nulla d'altronde ben sappiamo che sui social network quando mettiamo le immagini spesso anche immagini che non potremo mettere in pratica ne cediamo nel caso di facebook l'utilizzo a facebook a zuckenberg instagram qualche tempo fa aveva fatto una policy folle che su cui è dovuto retrocedere poi che era quello che poteva utilizzare qualsiasi immagine per fare pubblicità quindi ti potevi trovare la tua faccia messa sulla pubblicità di una cosa che te assolutamente abborri quindi insomma c'erano delle difficoltà in questo caso l'unica soluzione è quella di avere un'autorizzazione quindi l'autore può pubblicare tutto senza chiedere niente a nessuno per quanto riguarda tutto quello che non sono immagini io ero rimasto a questa no il numero non lo so ero rimasto però a questa cosa un po' complessa nella quale il ministero aveva detto noi siamo tutti d'accordo noi siamo d'accordo perché vengano utilizzate queste immagini ma di volta in volta dovete chiedere l'autorizzazione cioè non era uno svincolo era di volta in volta dove chiedere l'autorizzazione alle varie soprintendenze ai vari enti territoriali quindi non era fate noi siamo siamo d'accordo ma dovete comunque chiedere ulteriori autorizzazioni si c'è una lista di documenti che si no in generale si ora non mi ricordo se era solo per quello scopo o in generale però è chiaro che poi una volta che l'hai messo su wiki love monuments una seconda cosa le poteva riutilizzare quindi c'era una parziale apertura in questo senso qui parliamo spesso e volentieri di immagini non parliamo dell'immagine del colosseo dei bronzi di riace cioè immagini parliamo di strati di terra di frammenti ceramici di reperti che hanno un interesse diciamo scientifico non tanto commerciale ecco e quindi comunque sia però la legge non fa distinzione e quindi bisogna chiedere un'autorizzazione all'ente preposto e quindi uno può pubblicare tutto le immagini deve chiedere l'autorizzazione l'altro problema è legato invece alla legislazione legata alla protezione dei dati personali in generale insomma tutto quello che è privacy perché spesso all'interno magari di una relazione di questi dati magari c'è scritto l'intervento è stato fatto nel terreno di proprietà di tizio da parte della ditta e tutte queste cose qua ci sono due due sole chance la prima è chiedere a tutte le persone citate una liberatoria e per poter la cosa più semplice invece diciamo sbianchettarle anche perché spesso magari non sono dati importanti che possono interessare nel momento che c'è una e lo stesso anche per le immagini immagini che non permettono la riconoscibilità per dire fatti in interni che non permettono la riconoscibilità della proprietà quindi ci sono delle le licenze le abbiamo detto e comunque sono compatibili abbiamo scelto licenze creative commons perché rispetto per dire anche alle IOD le licenze quelle italiane che in parte si rifanno queste hanno una diffusione diciamo internazionale e abbiamo considerato fossero fossero più utili per quello per i nostri scopi da dove deriva il nostro il nostro archivio deriva dalla dall'archeological data service che è l'archivio più grande al mondo che esista in questo in questo momento un archivio inglese ci sono più di 20.000 reports che non conoscono alta pubblicazione insomma ci lavorano da quasi 20 anni ormai sono 17 anni e approfittando anche di una legislazione più più pragmatica rispetto alla nostra sono riusciti a fare veramente grandi cose anche loro in questo momento hanno dei problemi perché appunto c'è una riduzione di fondi da parte del governo britannico e c'è la richiesta è forte di dire sì tutte queste cose qui a cosa servono a chi servono infatti hanno fatto tutta una ricerca nella quale hanno dimostrato che ogni sterlina investita nell'archeologico data service ha prodotto ricchezza per 8 sterline virgola 3 quindi non saranno cifre gigantesche però insomma non è non è male quindi c'è anche un beneficio economico il junior richards del valore sì all'aumentare dei dati aumentava chiaramente il valore che questi dati producevano il mod ecco quindi noi diciamo prendendo il esempio da bene bene vuol dire che allora vedendo appunto com'è fatto il mod in questo momento ci sono 112 archivi su Pisa e non solo su Grosseto e altri archivi dobbiamo ancora metterli dentro quindi questo è il lavoro che abbiamo fatto finora ma ne abbiamo in preparazione da inserire sono come too many connections abbiamo accidenti c'è troppa troppo carico sul sul mod bene insomma questo ci fa ci fa piacere non è too many connections quindi evidentemente eppure evidentemente c'è eppure appunto non è sul server dell'università di Pisa quindi insomma non è che sul server del CZA insomma comunque non è un server piccolo quindi speriamo che sia per siano molti utenti in questo momento in linea comunque diciamo mi spiace che appunto speravo di riuscire a farvelo vedere comunque è diviso in due in due parti in una parte c'è la letteratura grigia in una parte c'è il dataset ognuno con i suoi DOI ognuno con le sue licenze c'è un collegamento e qui dopo molti discorsi mi collego alla domanda che vanno fatto nell'intervallo c'è un collegamento dal mod ai dati del web GIS non viceversa ancora come si diceva ma da qui posso andare direttamente a vedere i dati del la visualizzazione diciamo la geolocalizzazione dell'intervento sul web GIS il mod ha vedo commenti entusiastici bene e sul mod c'è scritto ci sono tutti i dati anche se uno vuole pubblicare ci sono tutti i documenti per pubblicare tutte le liberatorie cosa deve fare per poter pubblicare sul mod insomma tutte le cose di cui parlavamo parlavamo prima e abbiamo anche fatto uno schema di metadatazione di questi archivi che è uno schema proprio legato al dataset non è il metadato del singolo dato che è dentro ma del dataset ed è uno schema di metadati che in parte si rifà alle ISO 19115 e in parte al Dublin Core utilizzando anche cioè introducendo anche una voce che secondo noi è importante poi potete vedere quando sarà ecco questa nella proposta di metadati ci sono potete vedere tutti com'è lo schema e quelle sono le voci obbligatorie o meno e mappiamoli tutti bella ci piace e una cosa ecco importante era il background di chi ha fatto il come si dice di chi ha creato il dataset perché essendo dei dati scientifici ci interessa sapere chi li ha fatti e quando li ha fatti perché chiaramente quello che si diceva prima le metodologie cambiano le attribuzioni si sono modificate diciamo col tempo e quindi avere una storia cioè dei metadati che raccontino in qualche modo la storia dell'intervento la storia è fondamentale per poter capire i dati perché non sono semplicemente numeri i dati archeologici quindi c'è la necessità di capire quando sono stati prodotti da chi con che metodo perché non è una cosa un dato secondario too many connection continuo a dire va bene e quindi questo comunque è importante perché entra in quello sviluppo che per ora ritornando alle ripensando alle 5 stelle di Tim Bernard Lee sono lo scopo è arrivare ai link ad open data noi abbiamo detto vogliamo comunque mettere dei dati far vedere che è possibile che non fanno male a nessuno ma lo scopo è arrivare a quello lì ad avere dei dati invece linkati che siano utilizzabili in maniera più funzionale recentemente il mod è stato inserito in quella lista dei repositories della rivista del journal of open archaeological data e quindi chi vuole pubblicare sul mod può anche scegliere questa possibilità di passare tramite questa rivista quindi di avere anche un titolo tramite la rivista la pubblicazione tramite la rivista è soggetta a una peer review quindi non è detto che tutti i dati vengano considerati validi per la rivista sul mod invece non facciamo distinzioni di sorta però se uno pensa di avere un bel archivio può passare anche da questo altro sistema di pubblicazione e la cosa interessante non so quanti approfitteranno perché diciamo è un po' al limite forse è un po' pretendere troppo in questo momento dal mondo archeologico italiano è che oltre alle licenze che abbiamo chiesto che abitualmente chiediamo noi questa rivista ci ha chiesto di inserire come licenza la CC0 e quindi cioè di fornire questi dati in maniera totalmente senza neanche attribuzione l'attribuzione rimarrebbe soltanto nel DOI del dell'economia quindi questo è chiaramente molto difficile per i dati della ricerca loro lo richiedono a tutti ma diciamo tutti gli archivi che aderiscono a questo come l'ADS l'archivi tedeschi e altre cose hanno accettato ma comunque non so quanti pubblichino in questa maniera qui obiettivamente comunque evidentemente più che altro è il tentativo anche di fare uno sforzo in più di dire insomma sappiate che si può fare anche così sarebbe il massimo però comunque chiaramente io penso questo è un mio punto di vista molto personale che la migliore sia farlo con una CC BY cioè mantenere l'attribuzione perché comunque sono dati di ricerca in qualche modo sono dati di cui è importante però sappiate che esiste questa questa possibilità un attimo a fare un cioè a vedere se ho capito tutto per bene cioè su il su mappa cioè quello che sul mod vengono pubblicati dei articoli che si riferiscono ai dati che ci sono sul mappa GIS allora cioè nel senso scusami finisco poi collegare le due cose adesso unidirezionalmente cioè dal mod alla mappa le pubblicazioni che tu metti non è necessario che abbiano i dati del GIS inseriti cioè non lo so non devi approdare delle mappe puoi anche approdare semplicemente un paper un ok sì praticamente te l'idea allora quello lì del il link l'abbiamo fatto su allora due cose uno per il futuro dovendo chiaramente il primo step è stato per Pisa e quindi avendo fatto un web GIS su Pisa abbiamo deciso di linkarli anche se una parte del link è da terminare quello sarà comunque completato un'altra cosa invece visto che si sta espandendo al di fuori di Pisa è invece utilizzare per la localizzazione l'idea insomma è quella di utilizzare OpenStreetMap per la localizzazione questo andrebbe per tutti quegli archivi che non sono legati a Pisa quelli di Pisa chiaramente avrebbero in questo caso un doppio una doppia localizzazione sul nostro web GIS e su OpenStreet e gli altri invece una localizzazione perché comunque è nato per un progetto particolare ma visto che comunque ha l'ambizione di espandersi si sta espandendo ad esempio i dati su Grosseto non sono localizzati in questo momento e non lo possono essere noi non vogliamo fare il web GIS di tutto il mondo archeologico ci sono e sarebbe una follia chiaramente ma ci sono degli strumenti che ci permettono di farlo uno di questi può essere OpenStreetMap e secondo me sarebbe un'ottima cosa linkarli in questa maniera qua quindi in questo momento non hanno questo passaggio ma l'idea è quella lì e poi quello che dicevo i dati invece del web GIS cioè tutti i dati che avete visto prima anche quelli interpretati quelli finiranno tutti nel mod un lavoro che stiamo facendo ci sono parecchi dati quindi li stiamo un po' sistemando per metterli lì dentro però finiranno tutti lì dentro tutti dentro il mod tutti i dati che ora uno può solo visualizzare nel web GIS due cose sono da aggiungere uno che spesso la gente ha paura a pubblicare perché dice eh ma magari il mio dataset è criticabile non è non è perfetto come disse un nostro collega a Pisa a giugno Carlo Citter disse un database perfetto è un database sospetto un dataset perfetto è un dataset sospetto perché vuol dire che uno chiaramente ha cercato di limare per paura le imperfezioni e quindi nessuno deve fare questo è un problema che ha avuto anche la pubblica amministrazione si è chiesta subito ma i nostri dati non sono perfetti non lo saranno mai perfetti chiaramente e in generale per tutti vale quelli sono i dati e se ognuno esatto esatto quello che che si diceva prima e questi dati è un altro problema che purtroppo visto il numero elevatissimo di accessi che ci sono sul mondo in questo momento non vi faccio vedere ma vi spiego soltanto quello del formato dei dati cioè il dato aperto migliore sarebbe quello fatto con dei formati aperti purtroppo questo non avviene perché non c'è magari ancora la coscienza di produrre dati sempre in formati aperti e quindi molti dati sono stati sono prodotti e riversati con formati proprietari quindi fogli di calcolo in excel per dirne una oppure planimetrie e rilievi fatti con software proprietari come AutoCAD questo è un problema che chiaramente abbiamo ben presente nella prima fase secondo noi in questa prima fase l'importante è mettere a disposizione i dati e poi dopo lavorare sul fatto che comunque anche i formati devono essere aperti i dati non sono stati modificati da come sono stati prodotti ma sono stati inseriti come ci sono stati consegnati quindi se era un file dvg è rimasto un file dvg se era una pianta che era la semplice scansione delle piante non georeferenziata quella è stata pubblicata eventualmente lì ci sarebbe da fare un bellissimo lavoro di chi ha voglia con una specie di crowdsourcing in cui questi dati vengono digitalizzati trasformati resi piano piano è una cosa che potrebbe nel momento che ci sono aperti e chiunque lo può fare uno potrebbe fare una tesi e questo si diceva riutilizzare i dati potrebbe fare delle tesi in cui semplicemente prendendo i dati aperti li vettorializza li rimette come dati aperti e quindi diciamo poi si attribuisce la parte del lavoro di vettorializzazione fermo restando che l'origine dei dati è un'altra quindi in maniera trasparente tutto il processo però in questo momento i dati purtroppo sono come sono non si poteva fare altrimenti e l'unico appunto è come si diceva prima più ce n'è e più la gente vedrà che averli informati già leggibili leggibili da tutti aperti sarà la cosa migliore questi dati non sono dati solo per per gli specialisti ma possono essere utilizzati anche appunto da chiunque un'idea può essere quella di history pin semplicemente localizzare le immagini di scavo o alcune delle immagini di scavo su history pin quando uno gira per Pisa guarda una piazza un monumento un edificio inquadra e vede quel che c'era sotto ed è un modo molto semplice per riappropriarsi della propria della propria città o farla conoscere al visitatore è un discorso che si faceva qualche tempo fa telefonicamente con Luca Corsato e che lui appunto diceva sarebbe importante lavorare in questo senso perché tante persone hanno visto scavare e poi non hanno più saputo nulla non sanno si ricordano è una memoria storica in qualche modo si ricordano che lì era stato trovato qualcosa vicino a casa loro o sotto casa loro però poi per esigenze tutto è stato ricoperto o eventualmente asportato e invece avere questi dati disponibili permette in qualche modo di ricostruire anche questa memoria storica di chi ha vissuto delle cose che sono andate questo qui invece è un grafico semplicemente che fa vedere invece come al variare del tempo in varie condizioni sono aumentati o diminuiti gli operatori professionali che hanno lavorato su Pisa questo ad esempio è un modo per evidenziare la trasparenza delle operazioni quanta gente ha lavorato al variare del tempo chi ha riuscito a lavorare per più periodi chi invece è stato costretto a uscire dal mondo del lavoro ad esempio perché non ce l'ha non ce l'ha fatta più e così via quindi anche dati che sono di interesse non soltanto estrettamente archeologico per dire se uno sapesse sono dati spesso non disponibili ma sapesse i costi di un intervento archeologico sarebbe interessante proprio per una questione di trasparenza vedere come sono variati questi costi quanto costa spesso dice costa tantissimo perché blocca tutto l'archeologia eccetera eccetera siamo proprio così sicuri è un luogo comune che serve al costruttore chiunque questo sia lo stato meno perché così può dilazionare i tempi può dire sono cresciuti i costi a dismisura per l'archeologia è sempre vero questi sono dati diciamo che sono inseriti spesso nelle documentazioni archeologiche che però non interessano diciamo lo specialista ma interessano la collettività perché dicono se un lavoro è stato ritordato di cinque anni e si dà la colpa agli archeologi ma gli archeologi ci hanno lavorato tre mesi il ritardo dovrebbe essere stato di tre mesi non di cinque anni ad esempio questo noi come archeologi lo sappiamo esatto esatto questo è un modo noi spesso siamo 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 il parafulmine io su tanti cantieri chiunque abbia lavorato nei cantieri lo sa benissimo che spesso è il parafulmine perché tutti i ritardi l'archeologo è un modo per dimostrare che può non essere vero o non è sempre vero oppure a costi esorbitanti l'archeologia vediamo quanti sono i costi sull'opera nel totale spesso sono dei costi esigui rispetto al totale quelli non preventivati e dico quelli preventivati sono preventivati ma quelli che fanno aumentare a dismisura l'appalto e quindi è un modo appunto che per cui i dati aperti non servono solo a chi fa archeologia in senso stretto ma anche al cittadino al cittadino informato o eventualmente al giornalista che vuole visualizzare o mettere in evidenza certi aspetti ma ci chiediamo è sufficiente tutto questo che abbiamo detto finora è chiaro che rispetto a quanto abbiamo fatto che comunque è tanto non pensiamo che sia sufficiente c'è ancora molto da fare dei link di open data abbiamo parlato un'altra cosa importante è quella dei cosiddetti big data che tanta paura fanno in molti campi secondo me nel nostro campo non farebbero altro che bene possono far paura quando uno parla di privacy ma in un campo archeologico invece sono solo che uno stimolo perché perché avere grandissime quantità di dati ci permette di fare analisi prima impensabili perché anziché tutte le volte partire da uno possiamo partire da cinque da dieci andare sempre avanti perché processare in maniera automatica grandi quantità di dati non è come processarne dieci e quindi possiamo creare veramente delle cose nuove e per fa il tipo di dati molto diversi in cui lavorano gli archeologi è la ceramica è i fattori geomorfologici è la storia è le epigrafie le tomba quindi sarebbe inutile questo perché davvero ci misuriamo con tipologie di dati molto differenti tra di loro perché chi abbia un'analisi di competenze diverse tra di loro e quindi dobbiamo processare almeno parte di questo lavoro aiuta sempre torniamo alla ceramica avere in continuazione un flusso di dati che mi permette di vedere dove sono stati ritrovati e in che quantità sono stati ritrovati determinati classi ceramiche mi permette immediatamente di avere una diffusione anche commerciale di evidenziare rotte particolari che magari non avevo mai pensato di unirle ad altri dati e vedere perché si sono diffusi in una zona piuttosto che un'altra magari ce n'è una insomma farmi tante domande che solo con una grande quantità di dati mi posso fare perché se no resto sempre al solito modo intuitivo metto tanti puntini e invece avere un flusso continuo di dati di tanti dati mi permette di elaborarle con dei metodi anche matematici come poi vedremo per avere nuove nuove informazioni il campo della ceramica è quello intuitivamente più semplice da spiegare ma ce ne possono essere parecchi di più qua va bene se volete ci sono un po' di informazioni link a vari ad esempio il primo che vedete è un'analisi dei dati non legata in maniera stretta proprio al dato archeologico ma appunto al lavoro archeologico alla metodologia di lavoro a quel grafico che dicevo prima la variazione nel tempo di chi ha lavorato insomma anche dati che non sono strettamente legati proprio alla ricerca archeologica ma in maniera diciamo più complessa che sono stati fatti con i dati raccolti come applicare questi modelli ai dati archeologici e ora veniamo diciamo all'ultima all'ultima parte che è quella legata appunto agli strumenti predittivi alla parte dell'algoritmo mappa che si diceva che si diceva che si diceva prima i modelli predittivi qua vabbè c'è mago merlino ma in realtà non sono una una magia ma sono dei metodi statistici o statistico matematici o matematici per cercare di capire la presenza e o la consistenza dei depositi archeologici che ancora non abbiamo individuato i modelli predittivi sono stati sviluppati tantissimi dagli olandesi proprio per scopi di pianificazione evidenziandone anche tutta una serie di limiti chiaramente perché loro vabbè hanno basato in maniera molto stretta sulla pianificazione su questi dati che in alcuni casi sono rivelati poco affidabili e quindi in parte stanno ripensando a questo a questo modello predittivo e per questo motivo che e sono modelli predittivi basati fondamentalmente su analisi GIS e su analisi statistiche per questo motivo che noi abbiamo pensato credendo nella bontà e nel fatto che cercare di capire di predire il dato archeologico dove il dato dove il ritrovamento non è stato fatto sia comunque importante sia uno strumento importante abbiamo cercato una strada una strada diversa non quella diciamo statistica in senso più stretto ma quella matematica che ora poi cercherò di spiegarvi in maniera semplice a cosa servono questi modelli predittivi servono come abbiamo detto alla pianificazione cioè il fatto se appunto devo fare un'opera urbana devo fare una costruzione qualunque tipo di intervento che vada a intaccare il sottosuolo sapere che cosa posso trovare nel sottosuolo mi permette in qualche modo di decidere dove farlo sia per chi costruisce cioè avere un minor costo sia economico che di tempi sia per una questione di tutela per non andare a intaccare un patrimonio che preferiamo molto spesso conservare lasciare così com'è a conservarsi nel sottosuolo quindi pianificazione evidentemente tutela ma anche ricerca perché viceversa proprio il fatto di andare a capire dove ci può essere qualcosa mi permette anche di mirare la mia azione di ricerca e quindi utilizzando tutti i dati cercare di mirare la mia ricerca ad esempio il mio scavo in una zona che considero più ricca di informazioni di un'altra quindi è uno strumento che mi permette fondamentalmente di fare delle scelte più ponderate di quelle magari intuitive o comunque di sviscerare gli elementi che permettono di fare delle scelte ponderate evidenziando dove c'è un potenziale archeologico maggiore o minore allora l'algoritmo sì ora l'abbiamo creato appositamente per un'area urbana per tutta una serie di motivi però non è una struttura rigida cioè noi abbiamo pensato all'area urbana perché fondamentalmente era una tipologia su cui per due motivi uno perché voleva attestare un modello matematico e due perché era una tipologia un areale su cui i modelli preditivi in generale non si erano mai soffermati cioè le aree urbane erano in genere i modelli preditivi sono su scala territoriale ampia e non su una scala ristretta come quella urbana quindi ci interessava visualizzare questi due aspetti particolari e ora stiamo esportando questo algoritmo su scala territoriale quindi applicandolo a situazioni diverse con chiaramente dei correttivi per farlo funzionare ugualmente bene su scala territoriale allora i dati che utilizziamo sono come sono praticamente i dati che abbiamo visto prima sul webgis cioè noi utilizziamo tutti i dati archeologici i dati geologici geomorfologici i dati anche storici appunto la cartografia storica la toponomastica insomma tutto un insieme di dati dati delle foto aeree eccetera eccetera poi i dati da ricognizione ovviamente quindi dato archeologico in questo caso e poi lo scopo sarà verificarne magari con ricognizioni o con altri strumenti verificarne l'effettiva validità del come abbiamo fatto con l'area urbana nella quale poi abbiamo verificato se avevamo azzeccato la previsione facendo una serie di carotaggi andando a verificare che il dato del carotaggio quindi il dato effettivo e il dato dato dal nostro algoritmo fossero coerenti chiaro che dove ci sono più dati il modello funziona come qualunque cosa chiaramente dove ci sono più dati disponibili l'algoritmo funziona meglio cioè è più facile fare le previsioni no no certo in questo momento sì abbiamo selezionato un'area per cui abbiamo un campione però diciamo se ci sono diciamo noi abbiamo selezionato un'area campione in Toscana sulla quale perché abbiamo un buon numero di dati eccetera eccetera sulla quale verificarlo però noi siamo chiaramente aperti a se uno ha da proporre altre altre aree eventualmente di confronto insomma se ne può volentieri parlare ecco non siamo preclusi anzi più complesse sono le situazioni cioè più situazioni diverse uno ha meglio poi riesce anche a testare e a validare il prodotto insomma la previsione in questo caso quindi diciamo serve la ricerca qua c'è una serie di dati di partenza appunto quelli geologici quelli geomorfologico come le varie tracce o i dati toponomastici e una serie di analisi questi sono modelli predittivi abbastanza tra virgolette standard cioè che si che si possono trovare su software GIS come la mappa algebra o le selezioni o la cost surface analisi insomma tipo di previsioni geostatistiche come il kriging che permettono di fare delle previsioni delle interpretazioni in questo caso qua sono state utilizzate per uno studio su Pisa medievale che trovate anche quello scaricabili nelle pubblicazioni e hanno permesso di ipotizzare quale potesse essere il paesaggio nell'alto medioevo e nel basso medioevo in una vasta area torna Pisa e anche l'uso del suolo in una vasta area intorno a Pisa e che tipo di sostenibilità numerica di popolazione potesse avere questo uso del suolo quindi una parte di ricerca molto finalizzata alla comprensione della città della città medievale diciamo invece lo scopo principale è quello diciamo di tutela e pianificazione quindi legato al potenziale archeologico che cosa è il potenziale che cosa abbiamo questi sono i parametri sui quali abbiamo lavorato e noi abbiamo considerato il potenziale archeologico come la probabilità più o meno alta che vi sia conservato una stratificazione archeologica in un determinato punto e che rilevanza può avere questa stratificazione conservata cioè è una stratificazione che fornisce che tipo di informazioni può fornire questa stratificazione è difficile sempre dare un'importanza minore o maggiore alla storia è chiaro però diciamo il nostro sistema di parametrazione è talmente diciamo aperto che se poi uno volesse modificare i parametri all'interno di questo algoritmo di maggiore o minore rilevanza secondo lui lo può fare liberamente per cui noi abbiamo dato determinati parametri informativi ad esempio un terreno agricolo che abbiamo considerato magari inferiori rispetto ad altre cose cioè un numero minore non inferiore ma un numero minore di informazioni che si possono desumere da questo tipo di ritrovamento questo però non toglie che chi invece considera o per scopi di ricerca per altri motivi fondamentale la conoscenza delle pratiche agricole può aumentare quel valore rispetto ad altri e così via quindi diciamo i parametri sono molto molto numeri e noi abbiamo formalizzato un sistema di parametrazione che però può essere diciamo modificato dal ricercatore o da secondo altri criteri ecco però il sistema formale dei parametri rimane uguale per tutti si può modificare i parametri all'interno questa domanda in realtà cioè com'è questo tipo di previsioni possono essere utilizzate per un territorio che ha gli scopi archeologici cioè nel senso anche per rendere ora dire una parola così anche un po' per rendere un po' più pop questa cosa cioè per creare diciamo un'attenzione sui beni archeologici che sia cioè creare dei color rari che poi pongono l'attenzione sui beni archeologici che in Italia sono santissimi bellissimi ma poco visitati cioè in Puglia abbiamo dei dei siti pazzeschi che non vengono visitati quasi per niente mi ricordo un progetto che a cui aveva pensato Paola con altri suoi amici archeologici su Ignazia sui schiavi di Ignazia che sono giusto? era lì che volete fare la segnale etica? no tanto tempo fa nel senso che però lì i visitatori mi ricordo che tramite insomma l'idea di fare quel progetto loro avevano fatto questo studio sui visitatori che erano comunque pochi a cane della battaglia che erano pochissimi quindi magari una cosa di questo genere come può diciamo avere delle ricadute in effetti la sua domanda è interessante per questo diciamo fare rendere più pop questo tipo di contenuti ecco pensavo anche facendo un passo indietro ma in realtà collegandomi a quello che ti appena ho chiesto Chiara anche il discorso della metropolitana di Roma perché adesso è stato citato magari un sito archeologico qua in Puglia di notevole interesse ma che per vari motivi complice anche magari la pigrizia usata dalle istituzioni locali forse o comunque della politica non viene conosciuto e valorizzato per quanto riguarda la metropolitana di Roma come altre opere pubbliche lì si tratta di un discorso un po' diverso perché si tratta di realizzare in Italia le infrastrutture che spesso vanno lentamente e si scarica appunto la colpa sull'archeologo che magari non c'entra proprio niente magari bisognerebbe studiare ecco delle strategie delle azioni per migliorare la comunicazione da questo punto di vista perché adesso la tecnologia ha permesso questo balzo notevole raccogliere i dati internet le mappe interattive il GIS insomma ma forse bisognerebbe affiancare anche un altro percorso soprattutto per un terreno come l'archeologia che non lo so quasi inspiegabilmente io non sono archeologo però quasi inspiegabilmente viene considerato di serie B magari anche rispetto ad altri ambiti culturali che vanno più di moda ecco torno al pop non so questa è l'osservazione di uno che sta all'esterno che magari posso sbagliare è una mia sensazione non so adesso magari anche al confronto con altri specialisti su altri settori altri campi sempre umanistici come si può risolvere questa questione o provarci allora diciamo che sono due domande molto diverse rispondo prima alla prima allora questo è uno strumento anche di conoscenza abbiamo detto quindi di ricerca e anche come si è visto in alcuni casi che ho fatto vedere all'inizio i modelli predittivi permettono la ricostruzione di un paesaggio ecco questo ad esempio è un modo pop diciamo di fare di fare archeologia perché perché molto spesso noi vediamo questi siti quello che è rimasto di una città cioè l'archeologia è soltanto la città i resti i ruderi di qualcosa quindi arriviamo a Pompei ed è bellissimo perché c'è una città intera arriviamo in un altro posto ci sono i muretti alti 10 centimetri e oltre a non capire cosa erano quei muretti che magari cerchiamo di trasformare in casa non capiamo il contesto in cui si trovavano questi muretti il caso di Pisa secondo me è emblematico in età etrusca in età alto medievale Pisa era circondata dalle paludi cioè c'erano acquitrini ovunque era una situazione geomorfologica completamente diversa quindi noi magari arriviamo alla cittadina romana o al villaggio messapico so assai arriviamo lì e noi immaginiamo che il paesaggio sia lo stesso che vediamo adesso invece invece non è così non è così quindi uno strumento che ci permette la conoscenza del territorio ad esempio è uno strumento in cui io ricostruendo il territorio posso navigare nel territorio cioè i dati che sono stati elaborati per Pisa e Medievale nulla toglie che anche quelli lì ora saranno riversati open data nulla toglie che uno prenda e faccia un'app in cui si trova in piazza dei miracoli e si gira e non vede più la torre di Pisa ma vede che ne so le capanne e i fiumi e i boschi e gli acquitrini c'è uno scenario molto più pop in questo senso cioè che arriva a tutti in maniera semplice senza stare a leggere paginate pannelli niente cioè basta semplicemente geolocalizzare un'informazione e quindi io mi guardo intorno e vedo uno scenario molto diverso rispetto a quello che vedo quindi questi strumenti questa parte di questi strumenti si finalizza bene alla presentazione perché nel momento che io cerco di ricostruire su delle basi scientifiche un paesaggio un territorio posso poi divulgare questo dato e arriva al visitatore o a chi per lui in una maniera semplificata ma corretta o scientificamente il più corretto possibile sulla base dei dati che ho a disposizione però c'è un modo molto appunto pop di fare predizioni di immaginare appunto un paesaggio e di navigarci dentro in maniera in maniera semplice è chiaro che se te vai nel sito questo strumento cioè nel momento che tu devi ricostruire le casette o le capanne o quello che sono il castello e questo strumento è meno è meno utile perché hai degli altri termini di paragone migliori di questo qui perché io ti posso dire magari magari ne hai scavato un pezzettino e ti posso dire no si estendeva in questa zona è vero è chiaro però se devo ricostruire l'edificio ho altri elementi più efficaci di questo confronti tutto quello che c'è quindi però per uno studio del paesaggio cioè per delle mappe immersive non lo so un google map storico in cui io mi trovo immerso nel paesaggio di un certo periodo anche se vado in macchina c'è un navigatore che mi sta dicendo che in quel momento lì sono sull'antico tracciato della via Appia e tutto intorno e anziché vedere la strada vedo il selciato e anziché vede le chiese vedo non lo so le fattorie oppure vedo i boschi quello che è questo è uno strumento in cui i modelli predittivi ricostruendo anche il paesaggio mi permettono mi permettono di fare quindi sì uno scoso pop invece legato agli altri elementi che sono quelli della tutela e della della trasparenza anche cioè strumenti del genere permettono la carta del potenziale archeologico è sul web GIS ora poi magari la vediamo quindi chiunque può andare e dire a un certo punto uno si può anche fare la domanda ma questi qui perché hanno fatto l'IKEA dove c'è il rischio cioè dove c'è il deposito archeologico più conservato della zona perché no è una domanda cioè è una domanda legittima no e dice ma come è lì andiamo a a distruggere un patrimonio che poteva starsene tranquillamente sotto terra bastava farla a 200 metri di distanza no perché è stata fatta quella scelta poi magari ci sono delle motivazioni validissime non lo so c'è la falda c'è tutto quello che ti pare la geologia qualunque cosa però in qualche modo mi devi dare una risposta e ugualmente e ugualmente nel momento in cui un'opera pubblica ci mette tantissimi anni con costi elevatissimi uno può dire ma perché non l'avete fatta poco più in là che non cambiava nulla ma insisto sul discorso metropolitana di Roma perché si tratta di un'opera pubblica decisiva nell'ambito nel quale una città enorme se vogliamo che appunto dura da anni e anni non ricordo neppure quando è stata avviata non si sa quando terminerà quindi io trovo proprio vitale questo discorso e trovo fondamentale che ci siano adesso degli strumenti del genere che permettano davvero di fare un'analisi del perché e del per come certi lavori stanno andando così perché non riesco a capire ok tornando al discorso la mia prima domanda perché a Tokyo riescono a fare nell'arco di 6-8 mesi una stazione della metropolitana enorme a centinaia di metri sotto terra e invece a Roma non si riesca ancora cioè cerchiamo di capire quali sono gli elementi che creano queste condizioni ma ragioniamoci poi in maniera costruttiva non semplicemente strumentalizzando la cosa come spesa perché capita poi che alla fine si discuta senza riuscire però a capire il perché cioè è troppo facile dire ok in Italia ci si mette anni ci mangiano le imprese sarà così però è necessario secondo me dare peso a quello che si dice quindi c'è un discorso vabbè amplissimo ma davvero questi strumenti sono fondamentali nel caso nostro nel caso di questo strumento o di altri simili chiaramente come per Pompei per esempio gli scavi in Campania io conosco un po' quella realtà come cioè questi questi elementi appunto secondo questo tipo di approccio chiamiamolo così è un approccio diciamo previsionale nel senso mi permette di fare delle considerazioni prima cioè è chiaro che uno dice vabbè scavi a Roma e trovi di tutto vabbè certo però lo sai prima no che trovi di tutto e quindi esistono dei modi per rendere queste trovi di tutto trasparente nel caso di nostro è chiaro che se te vai a fare un parcheggio nella zona dove c'è scritto trovi di tutto avrai dei costi dei tempi ed è trasparente la tua te lo posso prevedere ti posso dire guarda che se scavi qui i tuoi costi oscilleranno in questo modo tra questo e questo i tuoi tempi tra questi minimi e questi massimi e è questo modo di ragionare che che deve essere cambiato se io lo dico prima in fase appunto progettuale e poi uno magari si mette l'anima in pace che dice scavare a Roma trovi di tutto gli scavi archeologici qua sono previsti per due anni partono gli scavi archeologici parte la metropolitana e tutto scusami anche perché in questo modo secondo me il discorso scavi archeologici rendono impossibile la metropolitana avviene proprio meno nel senso che allora ci rendiamo conto che non lo si può fare perché c'è troppa roba sotto parlo in maniera brutale allora l'amministrazione pubblica si deve preoccupare di migliorare il traffico la circolazione tramite altri muri perché non c'è solo la metropolitana c'è anche il trasporto sul rotaio potenziare il sistema di buccia non è che non si può fare ci sono in Milano c'è un'ottima rete di tram magari possiamo ragionare su ma se invece il discorso rimane sempre vago eh vabbè perché questo è il rischio quindi dobbiamo cioè lo dico dobbiamo anche noi con il nostro progetto sui vari cioè lavorare molto su questo sull'informazione e sono sicuro hai ragione sono concordo al 100% quando dicevi ehm i problemi per la privacy ma le potenzialità che i big data danno in tanti campi sono così ampie che secondo me il discorso della private cioè ci sono i pro e i contro ma i pro secondo me superano molto i contro cioè anche adesso magari diciamo il discorso lo stiamo facendo fra noi c'è chi ci segue in stream c'è da qui continueremo cioè è proprio un cammino che vogliamo fare che dobbiamo dobbiamo continuare ma secondo me è il futuro no no io sono d'accordo è anche il presente in realtà no è il presente anche perché per dire in campo archeologico c'è una legge che appunto prevede di fare delle valutazioni preventive no e quindi io punto molto sulla trasparenza non voglio dire che quello che abbiamo pensato noi sia l'unico modo il migliore dei modi possibili quello su cui credo che è un è un modo tutto trasparente e quindi nel momento che poi dico guarda stai attento lì no e poi te ci vai a cascare ti posso dire però te l'avevo detto prima no nel senso questo è importante per il cittadino perché sono disagi costi ormai non è che possiamo buttare i soldi dalla finestra quindi operazioni costose devono essere devono essere come dici tu la metropolitana non si può fare non si può fare per una serie di motivi magari perché è costosa perché distrugge delle cose che non riteniamo giusto distruggere perché può essere un'altra scelta è meglio che rimangano lì e non li distrugga nessuno tutta una serie di motivi validissimi troviamo delle alternative altrettanto se non addirittura migliori non è detto che scavare per far metropolitane sia la scelta sempre migliore magari non lo è più lo era magari 50 anni fa non è detto che lo sia da tutte le parti a Mosca o a San Pietroburgo ci hanno metropolitane lunghissime a Mosca c'è uno del traffico più congestionato perché ci sono altri problemi diciamo quindi bisogna studiare la soluzione da questo punto di vista poi uno veramente pensa stiamo studiando i ruderi scusami ma non è così perché cioè da rudere fra virgolette rudere di 2000 anni fa qua stiamo ragionando su lo sviluppo urbano attuale e futuro salvaguardando quello che poi sono le specificità del nostro territorio del nostro patrimonio certo allora per capire come abbiamo lavorato noi abbiamo appunto pensato a un modello matematico perché un modello matematico perché un modello matematico cerca di ricostruire le regole mentre un modello statistico mi dà solo delle probabilità una cosa più o meno probabile invece qua cerco di ricostruire le regole noi come abbiamo pensato di ricostruire le regole nel nostro nel nostro caso quindi cercando di formalizzare quella che era un'ipotesi cioè se uno potesse dire di conoscere quello che c'è in un punto preciso io gli potrei affidare un potenziale archeologico definibile e questo chiaramente è un assunto di base su cui ognuno dovrebbe essere più o meno d'accordo e poi il modello mi permette di stimare i punti tutte le aree dove non ho dati noti quindi di predire qualcosa la il principio è stato quello di visualizzare cioè di lavorare sulle relazioni cioè relazioni tra i ritrovamenti archeologici perché è il principio che generalmente fa l'archeologo in maniera intuitiva cioè ho trovato c'è questo più questo vuol dire che vicino ora chiaramente banalizzo però mi permette avere una serie di elementi mi permette di fare delle ipotesi su altri elementi che potrebbero essere nelle vicinanze io questo genere di ragionamento lo faccio magari in maniera intuitiva però noi qui abbiamo cercato di formalizzarlo ad esempio se ho una chiesa è molto probabile che intorno abbia un cimitero oppure un campanile se ho una domus romana questa si affaccia su una strada quindi tutti elementi chiaramente il tessuto urbano ha tutta una serie di elementi che sono interconnessi tra di loro e quindi il lavoro è stato quello di verificare la presenza di queste relazioni di queste connessioni tra i vari elementi e proprio in modo tale da dire io ho la domus e vuol dire che anche se non l'ho trovata sulla fracciata della domus devo avere una strada e quindi in qualche modo predico la presenza di una strada i matematici con cui abbiamo lavorato hanno pensato che il modo migliore per definire queste relazioni era approntare una variante dell'algoritmo di PageRank che era perché ora l'hanno sostituito l'algoritmo alla base di Google cioè quello che dava l'ordine di importanza alle pagine che si basa appunto su una serie di link in pratica le pagine web assumono una maggiore o minore rilevanza nella ricerca seconda dei link delle connessioni che hanno con altre pagine web più queste sono importanti più anche la nostra pagina aumenta di importanza in maniera diciamo intuitiva se Obama parla del bambino che si chiedeva se era sufficiente è chiaro che di colpo tutti si chiedono ma chi è questo bambino e lui sale alla ribalta dei media e sui giornali perché Obama o il Papa ha parlato di una persona che finora era sconosciuta e viceversa se chiunque di noi parla di Obama a Obama poco li cambia e li cambia solo se quando sono milioni di persone ma non una singola persona diciamo sconosciuta o normale come tutti noi parla di lui quindi più sono le relazioni che un elemento ha in qualche modo in maniera intuitiva più aumenta l'importanza del ritrovamento in archeologia come funzionano questi come si diceva prima questo è l'esempio di una casa torre medievale e noi sappiamo che una casa torre appunto ha una strada infacciata ha dei vicoli a lato al piano terra ha quasi sempre una bottega sul retro ha quasi sempre una corte il problema qui rientro nel campo dei big data è che queste conoscenze sono per ora spesso empiriche cioè date dalla conoscenza di uno specialista che conosce queste cose non abbiamo dei dati diciamo statistici a supporto purtroppo l'archeologia non è entrata in questo settore in maniera forte da dire quante domus hanno di fronte una strada quante case torri hanno sul retro una corte cioè tutti dei dati di cui avremo bisogno per dare una rilevanza statistica a questi nostri a questi nostri collegamenti esatto è un circolo virtuoso in questo caso per cui più dati avremo più potremo elaborare statistiche non lo so e anche definire se esistono delle dimensioni medie di determinate tipologie che ci permetterebbero di rivedere se certe cose sono più o meno standardizzate o standardizzabili è un tentativo che va fatto che l'archeologia deve fare non è detto che porti per forza da qualche parte non è detto che tutti i templi di Giove Capitolino abbiano delle dimensioni variabili da magari sono talmente eterogene da essere statisticamente non rilevanti però in questa assenza di conoscenza non ci aiuta possiamo dire tutto il contrario di tutto senza avere dei dati su cui basarci su questo però abbiamo iniziato a comunque convinti della bontà del metodo a elaborarlo e sulla base appunto delle conoscenze degli specialisti che comunque sono anche metodi valutabili da un punto di vista statistico e poi spingere verso appunto la produzione di dati che dimostrino o che rendano più valido il modello in pratica l'algoritmo diciamo funziona sulla base dei ritrovamenti partendo dai ritrovamenti archeologici sulla base di una serie di formalizzazioni vengono definite delle aree diciamo urbane suburbane agricole sui quali diciamo si espande il potenziale a seconda del valore che queste aree hanno chiaramente un'area urbana un valore maggiore di un'area agricola come potenziale informativo quindi noi non abbiamo dato un valore a quello che si trova ma alla tipologia alla quantità di informazioni che possiamo che possiamo ottenere da un da un ritrovamento archeologico formalizzando come si diceva prima tutti i dati e alla fine elaborando questo questo algoritmo abbiamo creato una una carta appunto predittiva dell'area dell'area in esame che qui vedete in una in una visualizzazione un po' da defetto insomma così il cui che appunto utilizza tutta questa serie di di parametri che si diceva prima dai dati delle delle fotointerpretazioni alla conoscenza degli specialisti alla toponomastica ai dati storici alla cartografia storica alla alla geomorfologia alla presenza o meno di fiumi paludi eccetera eccetera e quindi il modello diciamo si sviluppa grazie alle conoscenze del geomorfologico che sono fondamentali per la ricostruzione di un del per l'individuazione del potenziale è chiaro che se noi sappiamo che in un certo punto in una certa epoca passava un fiume difficilmente ci troveremo una città magari ci possiamo trovare un relitto di di un di un'imbarcazione ma non un tempio perché chiaramente lì c'era c'era un fiume quindi sono informazioni che modificano il il potenziale e eh questa poi è stata eh pubblicata eh aiuta faccio prima chiudere poi tweet tech e eh sulla la carta di potenziale che è la prima in alto e eh questa diciamo è una visione eh non suddivisa cioè il potenziale è poi stato diviso in una scala da uno da uno a cinque e eh una la possibilità poi diciamo pixel per pixel di andare qui vabbè siamo su una scala molto grande quindi ne vede molti di andare a individuare il il potenziale di quella zona lì da eh un minimo eh di dal potenziale di grado 1 fino a un potenziale di grado 5 questa visualizzazione che è più ostica se non per uno specialista è stata anche fatta in una maniera diciamo meno ostica eh che è quella divisa per per gradi di potenziale in cui appunto eh si vedono le diverse le diverse aree di potenziale ed è possibile anche eh all'interno evidenziare quali eh dovrebbero essere diciamo le caratteristiche generali di di questa di questa area questa è una lettura diciamo più intuitiva più semplice che può andare incontro diciamo a quelle cose di cui si diceva prima a chi deve fare una pianificazione eh che non è magari uno specialista tipo un archeologo che eh può può valutare diciamo pixel per pixel e cioè qua si tratta di griglie di 10 per 10 metri ogni 10 per 10 metri quale può essere il potenziale e eh invece eh in maniera diciamo più sintetica eh definire zone in cui chiaramente il valore informativo del deposito archeologico è più basso e quindi diciamo eh effettuare delle degli interventi di 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 urbani importanti può avere dei 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 costi minori viceversa immediatamente eh il cittadino può dire ma perché l'avete fatto nella zona 5 il parcheggio dove è chiaro che oltre a distruggere del patrimonio ci sono dei costi più alti starà a chi ha preso le scelte dare una risposta sensata perché può anche esserci a nessuno volevo solo una chiarificazione rispetto a questo termine è la possibilità di trovare lì sotto un reperto cioè sì non tanto un reperto quanto sì un deposito quindi una certificazione archeologica più o meno più o meno importante ecco quello che non ho detto è che presto poi saranno pubblicate anche queste alla voce carta di potenziale le carte di potenziale sono state fatte periodo per periodo quindi abbiamo una carta possono essere noi abbiamo scelto sette periodi perché tali erano quelli più importanti per per Pisa ma possono essere di più o di meno a seconda di dove ci si trova a lavorare insomma non è una scelta obbligata quello del 7 e e poi e quindi c'è anche la possibilità di vedere periodo per periodo come varia il potenziale questa diciamo è quella complessiva però poi posso fare più scelte in questo modo qua perché posso anche determinare che in certe zone magari il potenziale può essere quello totale magari non particolarmente alto però magari andare a incidere su delle stratificazioni e di un certo periodo che magari considero più importante quindi il pianificatore in questo caso chi fa tutela per dire la soprintendenza può dire sì è vero qui il potenziale totale non è molto alto però qui sotto c'è il rischio che ci sia c'è la potenzialità che ci sia un sito di un certo periodo che per noi è molto importante quindi occhio quindi è importante questa divisione periodo per periodo per periodo che però nella somma totale non è considerata come somma algebrica quindi tutti i periodi valgono uguale ma è già in qualche modo considerato questo fattore perché i periodi per i quali abbiamo meno ritrovamenti sono considerati con un peso maggiore questo perché perché chiaramente andare a distruggere qualcosa di cui abbiamo poca conoscenza è peggio diciamo per banalizzare di andare a distruggere pur conoscendo in termini di scavo archeologico però comunque sempre una discussione può essere qualcosa di cui abbiamo molta conoscenza se certi periodi storici non sono conosciuti è chiaro che distruggere o scavare a seconda di come lo vogliamo vedere anche in positivo quell'unico sito di quel periodo ha un valore molto più elevato che non scavare il centesimo ritrovamento di un altro periodo quindi questo è considerato nel compito totale ma per completare questa pubblicazione anche appunto le singole carte di periodo permetteranno di far vedere come il potenziale periodo per periodo varia e quindi che è un intervento e questo anche per valutare chiaramente che cosa poi vado a toccare perché appunto magari se scavo per dire se lo scavo è molto superficiale il potenziale che poi è considerato totale di tutto quello che posso trovare può essere molto ampio ma magari io scavo solo 30-50 cm un metro e magari intacco un potenziale che per quel periodo storico per quel primo metro è magari basso quindi questo è anche importante per valutare perché queste carte di periodo sono anche considerate sono anche legate a una stima del spessore in metri del deposito è chiaro che si tratta di una stima sulla base dei dati che abbiamo degli altri ritrovamenti quindi delle quote degli altri ritrovamenti è una stima di quello che può essere la quantità di deposito di un determinato periodo però mi può servire nel momento in cui vado a fare un'opera perché se scavo un metro in alcune zone magari arrivo direttamente alla preistoria perché è subito lì e se scavo un metro in altre zone magari c'è un riporto fatto negli anni 50 dopo la guerra di macerie e quindi è chiaro che lo stesso metro ha un valore di potenziale molto molto diverso e quindi non è che la profondità per forza fa potenziale ma è data da quello che uno si aspetta di trovare e lo stesso una zona invece in cui il potenziale totale può essere molto alto se invece si va ad incidere magari solo su uno dei potenziali uno dei periodi o alcuni dei periodi può avere comunque un potenziale basso quindi può essere una scelta che viene fatta pur in presenza di un potenziale totale elevatissimo perché magari è molto ricca partire da l'alto medioevo in giù diciamo e io mi fermo agli strati più superficiali dove invece magari un potenziale informativo più basso e quindi in qualche modo la mia opera ha un costo in termini di istruzione del patrimonio e di costi proprio economici minori quindi tutti questi dati sono importanti appunto in questo momento abbiamo pubblicato queste due versioni ma nella prossima release ci saranno anche tutte le versioni periodizzate in modo che anche questa cosa qui sia trasparente per tutti ecco insomma anche il procedimento questa domanda è un pochino più accademica però mi è venuta rispetto alla tanta dibattuta questione del porto di Pisa in età romana l'aver compilato questa mappa di predittività vi ha dato dei dati in più allora spongo te l'abbiamo chiesto sì questa cosa qui è una cosa che innanzitutto la prima cosa la prima cosa che ci è stata ci è stata chiesta è se saremo stati in grado di prevedere la presenza delle delle navi romane di San Rossore delle navi antiche per meglio dire non romane sono solo romane delle navi antiche di San Rossore e la risposta in tutta onestà è stato diciamo no nel senso che la cosa che noi abbiamo potuto prevedere grazie all'analisi morfologica geomorfologica è la presenza di tutta una serie di percorsi fluviali nell'attribuzione del potenziale archeologico noi al percorso fluviale abbiamo messo la potenzialità che ci siano dei relitti cioè la presenza di un paleoalveo diversamente da come si poteva pensare non equivale a un potenziale nullo ma equivale al potenziale di trovare eventualmente un relitto quindi la notizia cioè il dato in sé è in qualche modo considerato cioè ho un fiume e quindi posso trovare determinate cose anche archeologiche all'interno di un fiume chiaramente il passaggio magari di un fiume successivo può erodere questo qui diminuisce il potenziale perché erode il potenziale avendo scavato una parte dei ritrovamenti anche questo è stato considerato però dire lì c'erano le navi romane no in quella zona però non c'è un potenziale nullo c'è un potenziale che ti dice guarda che qualcosa ci può essere è molto difficile prevedere almeno per ora con questa precisione quindi questo riguarda le navi riguardo al porto io non me ne sono occupato ne ho lo specifico perché chi si è occupato della parte diciamo dell'analisi dei dati romani che poi ha pubblicato nel secondo volume questi dati ha fatto delle ipotesi che comunque il porto non si trovasse molto lontano di lì perché molto probabilmente l'area di piazza dei miracoli si configura come un'isola un'isola fluviale con due fiumi uno sopra uno sotto in età romana e quindi è una delle ipotesi che nasce da comunque queste analisi e che ci potesse essere diciamo un porto urbano sul tracciato del Lauser quindi nella zona nord della della piazza comunque degli attracchi in quella zona e quindi si ci ha permesso di fare delle ipotesi che prima chiaramente non potevano essere fatte comunque queste cose qua sono pubblicate nell'ultimo capitolo del secondo volume che trovate scaricabile si concludo velocissimamente e qua ci sono più informazioni l'ultima cosa e avevo finito questo qui ci tenevo a dirlo il gruppo delle persone che hanno lavorato al progetto che vi ho raccontato io in questo in questo caso ma ci tenevo particolarmente perché come vedete questo progetto è frutto del lavoro di un'equip di tantissime persone quindi è vero come si diceva prima che abbiamo fatto tanto in due anni grazie a un finanziamento della regione toscana all'interno di un bando che siamo riusciti a vincere ma ci hanno lavorato tantissime persone siamo riusciti anche a dare lavoro a una parte di studenti che hanno fatto formazione diciamo all'interno di questo progetto formazione con delle borse di studio quindi non soltanto formazione gratuita insomma questo ci ha fatto piacere essere riusciti anche a pagare persone che si stavano formando ma avevano già delle competenze insomma comunque come vedete qui è il lavoro di un'equip numerosa che io qui ho presentato un po' a nome di tutti ma insomma il lavoro è appunto di tutti grazie riprendiamo lo streaming alle 3.30 con Maurizio Napolitano che ci parlerà di OpenStreetMap di OpenStreetMap